Buongiorno Gobi, buongiorno Gobi, buongiorno nemici, con me sono bianconero vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare e mettere un like se il video vi è piaciuto voglio brevemente fare un gioco con voi, un gioco di quelli... di quelli... un po' cattivi allora, sapete il mio pensiero, la rosa della Juve è scarsa sapete il mio pensiero, la colpa è della società sapete il mio pensiero, ci mancano dei reparti ci manca tutto il centrocampo, incontrista e regista ci manca la punta, ci mancano i tersini ma queste sono cose che io dico da tempo critico la società, ci manca soprattutto una dirigenza ci mancano i tifosi, perché ci mancano i tifosi perché ieri sei tifosi del Sassuolo si sentivano più dei mangiatori di pop corn allo stadio e tutto questo è colpa solo e esclusivamente di A.A. e del suo portaborse biondo questi però sono discorsi che comunque sia io faccio da tempo però la gente non si può criticare la dirigenza è però ci ha fatto vincere è però no, non funziona così tu stai là, stai a lavorare, ti hai fatto bene e se fai bene io te dico bravo visto che so 5 anni che tu stai a far cazzate io sono un tifoso e ti critico e ho il diritto di criticare se fai merdate visto che so 5 anni che Agnelli e compagni fanno merdate sia sul campo e fuori è giusto che vengano criticati che come si sono presi gli elogi si prendano le critiche a mio modo di vedere è un diritto anzi un sacrosanto diritto del tifoso criticare come è un diritto elogiare la squadra voi continuate a elogiare un presidente assenteista e rinunciatario io no, non ci riesco perché gli errori cominciano ad essere troppi ma non serviva la partita col Sassuolo detto questo voglio fare questo bel gioco con voi visto che mi hanno detto che la Juventus non è così scarsa come Rosa la Juve ha 20 nazionali non può essere scarsa è vero però magari dipende di 25 nazionali come li prendi dove li prendi e soprattutto in che contesto li metti perché singolarmente diciamo potremmo essere anche la terza rosa della Serie A tra i primi 4 però se tu prendi dei giocatori li prendi male e prendi dei tasselli uguali e non riesci a costruire il mosaico quindi non si incastrano ma si sovrappongono tu non diventerai mai squadra quindi puoi avere anche 25 nazionali ne puoi avere anche 30 ma se sono 30 nazionali gestiti male tu non diventerai mai squadra perché oltre a mancarti tutti quei ruoli che ho detto che sono scoperti hai dei giocatori non funzionali Kulusevski con la Juve è un blocco nella Svezia è funzionale all'allenatore e al gioco dell'allenatore svedese e è determinante Rabiot resta una pippa qui e in Francia però in Francia ci avvicino Pogba e Kanté e riesce a giocare bene nell'Italia Chiesa è devastante perché ha un centrocampo con Pellegrillo e Veratti e Giorginio la Juve deve fare incontrista lui Bonucci e Chiellini in Italia riescono a fare un giropalla che si chiama e che ha un giropalla e che ha un senso logico nella Juve non c'è movimento perché ci sono giocatori che stanno fermi McKennie girovaga per campo Rabiot se mette bene la treccia Alexandro è un bradipo quadrato Porello è cotto perché ha tirato la carretta per anni e come lo fai a giropalla se non c'è movimento se non c'è gente che si muove e si propone quindi puoi avere anche 500 nazionali ma se sono assembrati male tu non farai mai l'equazione che fa la fine uguale squadra però io continuo a rispettare chi mi dice che ha la rosa competitiva tu c'hai la rosa competitiva e l'altro anno arrivi all'ultima giornata a qualificata in Champions grazie a Faraoni tu quest'anno c'hai la rosa competitiva però stai a 13 punti da Napoli e anzi da Armila scusate quasi sicuramente anche da Napoli e però sei competitivo allora io faccio questo gioco visto che qualcuno me l'ha chiesto lo voglio fare adesso tutti sotto vi chiedo cortesemente nelle prime 6 squadre quelle che ci sono sopra dall'Atalanta al Milan e ci stanno sopra dall'Atalanta al Milan quindi Lazio Atalanta Mila Roma Napoli Inter mi prendete mi prendete un giocatore della Juve di qualsiasi reparto e me lo mettete titolare vi sfido a trovarne più di due che giocherebbero titolari nelle altre squadre vi sfido a trovarne più di due che giocherebbero titolari nelle altre squadre allora di attaccanti io penso che non giocherà nessuna attaccante in nessuna delle 6 squadre che stanno davanti anche perché attaccanti in ciale di centrocampisti levate il nome centrocampisti forse qualche difensore forse qualche difensore quindi chi mi chiede da far giochino dei tre carte e da mettere il gioco dei figurine dovrebbe controllare i moduli e la funzionalità del giocatore e poi fa il gioco delle carte una volta che fai il gioco delle carte ti rendi conto che se a oggi forse uno due massimo giocatori possono andare a incastro forzato dentro a qualche squadra di vertice e magari 5 anni fa ci andava tutta la rosa da Juventus e tutte le squadre d'Italia c'è un problema forse magari la rosa è scarsa però il carcere è bello perché parlano tutti fino alla fine forza Juventus